Eccoci qui, è arrivato un altro ospite, e che ospite? Fabrizio Ferri! Grande di altezza, oh grande... E tutto co? Vabbè, perché ho sciuffo? Ciao a tutti, ciao, bentrovati, vabbè, calune oramai è... Cioè, non frate rumi, non com'è non mi c'è... Siamo fatti di divertite per quanto riguarda le dirette televisive su RTC d'Argato Napoli. E siamo su RTC d'Argato Napoli. E quindi approfitto a mandare... E fratellini? Baffadillo, i baffadillo... Perché baffadillo? E vabbè, perché erano tutti riusciti, li ribaffadillo, li chiammo i fratelli marigliani, li chiammo i baffadillo. I baffadillo, i fratelli zorro. Io gli mando un bacio forte, forte, perché a parte gli scherzi, loro fanno sempre delle cose alla grande, e poi si sono affidati a due pilastri, per quanto riguarda questa grande emittente. C'è un grande... Oggi non scende, è un repus imparale. Lo sapevo, lo sapevo. Amore, cosa ci farei ascoltare? Allora, io canto due canzoni di questo mio nuovo album intitolato Ma para ir, rinduliettmi e ma basta tu. Voi là, hai capito? Non la provi, hai capito? Nè cosa tu però, nè cosa tu però, nè cosa tu, che tu non sei carnal, mi tratti malamente. Eh no. Sì, 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 vabbè, come... Dammi a RTC, targato Napoli. Un bacio forte e forte. Dalla e quale a te. Dalla e quale a te. Ciao. 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 Ha, 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 ha.